Si chiama La Termoli che mi piace, è un contest fotografico voluto dall'assessorato allo sport, cultura e turismo del Comune di Termoli in collaborazione con il Comitato dei Commercianti che si è costituito qualche mese fa. L'intento è chiaro, veicolare l'immagine di Termoli via social proprio per promuovere e far conoscere la città adriatica attraverso le fotografie dei partecipanti e proprio per questa occasione è stata aperta una pagina Facebook La Termoli che mi piace, dove attraverso i like saranno proprio gli utenti a votare le immagini più belle. L'iniziativa è stata presentata in Comune dall'assessore Michele Barile alla presenza del dirigente Carmela Cravero e di Mattia Torraco che ha realizzato le grafiche del contest. Due le categorie in concorso, la prima riservata ai residenti e la seconda per i turisti, sul sito internet del Comune regolamento e modulo di iscrizione. Per la categoria resident premi in buoni spesa, per quella turist, soggiorni e aperitivi in città. Un modo diverso per dare luce alle meraviglie di Termoli. È un'iniziativa volta sì, appunto a valorizzare un attimino e a promuovere le immagini del nostro territorio. È un contest che è aperto sia a residenti che a turisti. Ci sono infatti due categorie alla quale possono tranquillamente partecipare, ripeto, sia turisti che cittadini residenti. Quindi fotomatori turisti e residenti. Il contest avverrà diciamo in due fasi. Ci sarà quindi la fase della votazione popolare che avverrà sulla pagina social della Termoli che mi piace. È una pagina creata appositamente appunto per il contest e al termine del periodo della consegna degli elaborati grafici che è previsto per il 31 agosto 2021 verrà poi nominata successivamente una giuria che in base a determinati criteri si dovrà pronunciare e quindi verranno attribuite a tutti gli elaborati dei voti da parte di questa giuria. La sommatoria delle due poi disporrà quella che sarà la gradatoria finale. Quindi, ripeto, un invito a partecipare a tutti quanti i fotomatori presenti sul nostro territorio e ai tanti turisti che verranno a trovarci qui per queste vacanze nell'estate 2021.